Sopra lo scudo o con lo scudo, un motto spartano pro nell'anima, la cavalleria ai lati, chiedo solamente, sangue per i barbari, e vediamo appunto di ottenerlo. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di sedustrice, benvenuti alla nostra grande avventura su Rome Dental War Emperor Edition, siamo in compagnia del grande Ricky Magnus, ciao Ricky. Ciao Strenus, ciao ragazzi. Procediamo ragazzi con la nostra avventura, come dicevo, prima cosa che faremo in questo gameplay, attaccheremo Segestica. Chiaramente al prossimo turno abbiamo esaurito i punti in movimento, ma per fare ciò ci sono due possibilità, o entrare nei loro territori, cosa che abbiamo già fatto, e aspettare un attacco, vi ricorderete, lo abbiamo fatto anche per gli Insubri, oppure scendere al fianco dei nostri alleati. Vi ricorderete questo popolo fierissimo Barbaro, i Boy, che se la stanno già vedendo anche con gli RDA ragazzi, questo popolo che ben conosciamo dal potere smisurato. Non mi voglio fermare qui, non ci chiamiamo Strenus e Richemanius apposta e voi non siete gli Spartani per nulla. Ragazzi, questo gameplay si marcerà anche verso la colonizzazione di questi territori. Degli Arverni. I territori degli Arverni devono cadere, sono un popolo che davvero mi spaventa Nord, sono sempre i nostri confini e sempre guardano di malocchio i nostri territori. Ma una cosa alla volta ragazzi, prima di tutto, dobbiamo dare un'occhiata a tutte quante le nostre forze ragazzi, per essere sempre al meglio e per potenziare il nostro grande impero. Partiamo dal sud ragazzi, abbiamo Tucidide e la grandissima Berenice, Donna Nobile Pro nell'Anima. Vediamo subito che abbiamo una ripresa di un punto e 18 standard. Molto bene ragazzi, perché il mio scopo è quello di Richie poi di mandare questi agenti ad Alalie, che ha dei problemini un pochino maggiori. In questo caso non andremo a reclutare altre costruzioni perché ci causerebbero troppo deficit di cibo, ma ricordiamo che Brindisi è tassata e che produce 1831 dracme d'oro a turno stesso. Perfetto, tornando invece a Nord, possiamo notare che a Roma possiamo assolutamente costruire. Deciderò adesso con Richie ragazzi qual è la migliore delle costruzioni gialle, quelle che danno davvero tantissimo ordine pubblico per noi. Dunque ragazzi abbiamo deciso anche in questo caso di puntare sull'alloggio per i viaggiatori. Centro cittadino, le locande o Pandocheion provvedono ai bisogni degli stanchi viaggiatori. Se al cibo, 50 la ricchezza derivata dall'intrattenimento e più non l'esperienza per tutti i nuovi agenti. È perfetto ragazzi, lo mettiamo subito in cantiere e ricordiamoci anche che Roma, Roma è la luce, avrà presto anche un altro slot di espansione se continua a crescere. Quindi è molto bene quello che stiamo facendo, non mi sono dimenticato di Rimini ragazzi, chiaramente lo sappiamo. Procediamo quindi con la panoramica, andiamo verso Alalia, benissimo ragazzi. Vi ricorderete che avevamo distrutto il campo precedentemente appunto costruito e faremo un altro terreno consacrato ragazzi. Il motivo è semplice perché questo metterà la parola fine, logicamente, ai nostri problemi in questa zona, in questa piccola isola. Sarà la capitale diciamo religiosa del nostro grande impero, questa bellissima e floridissima isola. Ricordiamoci ragazzi anche che logicamente metteremo a reclutare poi delle versioni che daranno cibo nella zona stessa. Molto bene, perfetto. Nella zona invece a nord abbiamo la possibilità anzi di fare nulla perché la Cisalpina è praticamente tutta già costruita. Mentre invece nella zona di Octodorus e per quello che riguarda la Rezia et Noricum possiamo notare che i soldi appunto sono finiti. Non ci rimane ragazzi che fare una cosa. Ovvero volevo muovere la nostra spia, dato che vorremmo conquistare questi territori davvero molto appetibili per noi, verso la città di Massalia. Andiamo ricchi a fare un pochino di casino. Vediamo ragazzi qual è la migliore mossa tramite il sabotaggio. L'abbiamo visto poche volte, è il momento di usare le nostre spie nel modo migliore. Dato che costa 730, per pochissimo non ci arriviamo, possiamo provare o a piccare l'incegno ma abbiamo una possibilità del 33% ragazzi e se falliamo e la spia viene scoperta, rischiamo una guerra aperta con gli arverni, sarebbe davvero molto rischiosa. Oppure incitare disordini ma questo provocherebbe sicuramente un reclutamento all'interno di nuove truppe, cosa che andrebbe contro di noi. Allora proviamo a fare un'altra azione, verso la loro smeria, questo agente nemico. Vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante, 17% per l'uccisione, mentre la manipolazione arriva fino al 21%. Ricky potremmo provare facendo raggire l'agente prescelto, facendolo unire la tua causa. Potrebbe essere un'ottima mossa. Esito positivo Ricky, 83%, mentre diserzione l'obiettivo 21, obiettivo fermato 62. Se non altro ragazzi la fermiamo. Vediamo un po' di agire. Attenzione, da fuck, si avvicina con fare prorompente ragazzi, la sfida duello, la paga, propone qualcosa, agente nemico ostacolato. Perfetto ragazzi, siamo sicuri che questo agente non potrà fare nulla in questo turno. Direi che abbiamo fatto tutto quanto, anzi la nostra spia a livella indiretta, benissimo perché questo chiaramente le darà la possibilità di essere sempre più abile. Ragazzi, ci stiamo un pochino perdendo in chiacchiere? Io penso di no perché appena passeremo il turno, qui si scatena la guerra totale, quindi diamo subito un attributo e poi procediamo con fare davvero arrogante. Dunque ragazzi, specializzeremo la nostra spia con l'abilità furtività. Tutti i piani migliori nascono in stanze. Buia, come non essere d'accordo, più non l'astuzia. 3% la probabilità di successo di un raggiro e assassinio 20%, anzi 10% la probabilità di esito positivo. Ragazzi, mettiamo a reclutare. Abbiamo fatto tutto Richie Penso, assolutamente sì, ricordiamoci anche che nel prossimo turno recluteremo le flotte, me l'avete chiesto in tantissimi e chiaramente io vi ascolto così come vi ascolta Richie Magnus Pro. Ragazzi, guerra totale, non ho altro da aggiungere. Direi che stiamo, vi ricorderete anche, reclutando tanti uomini sia per il nostro nuovo progetto sia per difendere i confini in sé e non mi sono certamente dimenticato anche dei commenti che mi avete fatto che riguardano appunto la protezione della nostra bella Grecia, che sta però scendendo di 3 punti percentuali. Attenzione, ma non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Ragazzi, il nostro scopo per adesso non è guerra contro gli RDA, ma è evitare di sfidare gli RDA per poi riuscire a organizzare più avanti una guerra aperta quando saremo davvero organizzati. Intanto tagliamo le gambe a tutti i loro alleati. Basta parlare, è il momento di passare il turno. Se c'è qualcosa di interessante lo vedremo, se no, pace bene. Nel passaggio turno possiamo notare che solo i più grandi osano parlare di pace ai loro nemici, solo i deboli cercano la morte di tutti. Non sono parzialmente d'accordo, dato che i morti sarebbero loro, ragazzi. Come notate, gli Insubri ci offrono un trattato di pace. Io farei una piccola controferta, Ricky, se sei d'accordo. Vorrei, uno di voi me l'ha consigliato, rendere lo stato cliente. Cioè, vorrei che diventassero i nostri schiavi gli Insubri, ragazzi, invece di andare a inircarci qua su in mezzo alle montagne. Proviamo a vedere come valutano la cosa. Attenzione, chiaramente la valutano molto bassa. Cosa dici, Ricky? Preferiamo far pace, metterli a posto, oppure stato cliente? Io lo metterei sul trattato di pace al momento. E poi, nel nostro turno, al massimo, proviamo a rilanciare lo stato cliente. Quindi, ragazzi, Ricky dice, logicamente, portiamoci a casa il trattato di pace, quindi fermiamo un attimo la guerra, dato che qua su, questa zona, non è che sia molto florida, e anzi è in mezzo ai nervi, che sono ancora popolazioni che non ci vedono tanto bene, molto potenti. E poi, più avanti, proveremo ad assoggettarli. Quindi, assolutamente, accettiamo l'offerta. Si potrebbe anche, comunque, richiedere un piccolo pagamento. Vediamo un po'. Molto alto, attenzione. Ok. Dunque, ragazzi, sembrerebbe che 1000 drachme d'oro sia un pagamento più che equo, dato che questa gente ha provocato molti morti anche nelle nostre file. Proviamo a proporre questa offerta. Molto bene, ragazzi. So che alcuni di voi non saranno d'accordo, ma abbiamo guadagnato 1000 drachme d'oro, quindi svuotando ulteriormente le loro tasche, e soprattutto abbiamo evitato di avere, appunto, un altro nemico, per quanto ci vedano davvero molto, molto male, anzi, in un modo tragico. Perfetto. Procediamo con la fine del turno. Abbiamo completato una missione importantissima di questo gioco, Sivis Pacem Parabellum, ve la ricorderete certamente. Mantieni 60 unità in tutto. È un obiettivo primario, e abbiamo raggiunto in questo modo 8500 drachme d'oro, 16.000 nelle casse e altri 6.000. Sono davvero contento, perché questo è davvero un ottimo traguardo per noi. Obiettivo assegnato in Veniam Viam. Amato governatore, temuto conquistatore, costruttore di città, distruttori, civiltà. Alla gloria si arriva per molte strade. Quale sceglierai? Assumi il controllo di 25 insediamenti che siano di tua proprietà, o stati clienti e alleati militari. Benissimo, ragazzi, questa è un'altra, assoluta, ma importantissima missione livello 2, primarie, chiaramente, 10.500, anzi, livello 3, scusate, ci offrirà 10.500 drachme d'oro. Ormai sono soldi davvero molto, molto importanti. Ippolito, eccoci qua, una piccola missione, il nome di uno dei tuoi sudditi è sulla bocca di tutti. L'analizzeremo appena avremo finito i messaggi e vento. Fazione in ascesa Pontus, assolutamente sì, si trova qua, ragazzi, circa, appunto, in Turchia, perfetto, sul Mar Nero, bene. Popolazione motivata in Cisalpina, ne siamo contentissimi di questo. Rapporto costruzioni, Renzi Bovino, villaggio ellenico, caserme degli Olosideros, ragazzi. Tratto acquisito Eufro, nobile donna raffinato. Attenzione, ragazzi, ho sempre più dubbi sul fatto che Eufro poi, di fatto, sia una donna, come Scazzoni di Rome, che saluto davvero gentilissimo, ha commentato. In Subri, pace negoziata, perfetto, questo l'abbiamo fatto a noi, logicamente. Rapporto del Furiere, queste sono tutte le unità che abbiamo reclutato. Non dimentichiamoci, chiaramente, la flotta è la guerra che sta per scatenarsi, ragazzi, attenzione. Taximagulo, ancora una volta avvistato, dove? Sempre qui nei pressi, oh my god. Attenzione, ragazzi, abbiamo gli Arverni che sono ai confini. Forse hanno intuito quello che vogliamo fare e presto pagheranno per la loro insolenza. Una cosa sempre per volta. Un grande impero va gestito sempre nel modo migliore. Quindi vediamo subito di vedere che cosa vuole il nostro Ippolito. Gioventù promettente, non l'abbiamo mai vista, ragazzi. Un lontano parente della famiglia mostra segni di grandezza. Nonostante la sua età, pare che il ragazzo abbia un talento da leader innato. Adottalo, fallo diventare sacerdote, non fare nulla. Vediamo di scegliere con Ricky la scelta migliore. Ragazzi, vi propongo, anzi ho pensato con Ricky questa soluzione, che è pensiero comune adottarlo, chiaramente questa sarà la nostra azione. È pensiero comune che questo ragazzo diventerà un giorno un valoroso generale. Lo adottiamo, ragazzi. Ippolito, uno di noi. Molto bene. Vediamo chiaramente che effetto avrà questa nostra scelta. Già che siamo nel tab, ragazzi, vi faccio vedere una cosa molto importante. Poli per Conte ha una Gravitas davvero eccellente. 439 punti, una cosa mai vista, chiaramente non viene chiamato divino a caso. Mentre sotto abbiamo Cneto, vi ricorderete, l'abbiamo fatto ritirare, si dedica solo alla politica, 125. Ma gli altri più o meno hanno la stessa influenza, sono anche di numero superiore, rispetto ai nostri famigli reali. Quindi direi di boostare un pochino, dato che i soldi li abbiamo, Ricky, verso Teofilo, dando lì, appunto, una promozione. Perfetto. Io farei anche a Platone. Va bene. Anche Platone, ragazzi, che è un grande, grande soldato e soprattutto generale. Assicuriamo quindi un paio di promozioni. Benissimo. Ok. Uno l'abbiamo fatta adesso. E al nostro grandissimo Platone sempre assicuriamo un'altra promozione. Tanto per fare sempre un po' di slag di Baltimore. Perfetto. Abbiamo fatto tutto il possibile. Anzi, addirittura, Ricky, possiamo ripromuovere Platone. E io lo farei, perché mi sta parecchio simpatico, ragazzi. Scrivete, logicamente, qua sotto se vi sta simpatico Platone e spero proprio di sì. Perché forse sarà l'erede al trono del grandissimo Poli Preconte. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo dato una bella bustatina. Adesso basta tergiversare. Prima di tutto, Ricky, faremo quello che vi hanno detto appunto precedentemente. Si passa alla guerra totale. Quindi, ragazzi, si procede. Andiamo verso, appunto, il limitare dei nostri nemici, dei breuci. Notiamo subito che se gestica non è proprio sguarnita. È il momento della prima fase. Ovvero, eccoci qua, scusate ancora. Perfetto. Conquistare ed eliminare dalla faccia della terra i breuci che non devono esistere. Mai più. Poi ci dedicheremo chiaramente agli Arverni e poi verranno tutte le altre nostre avventure. Ma non perdiamoci in chiacchiere, è il momento di procedere. Subito diplomazia, Ricky. Molto bene, siamo nel tabella diplomazia. A questo punto si selezionano. Subito. Eccoci qua. Entra, partecipa alla guerra contro. Chiaramente mi sto rivolgendo, ragazzi, ai miei alleati. Diciamo subito di offrirci contro i breuci. Eccoci, perfetto. Molto bene. Offriremo il nostro aiuto anche senza pagamento, perché il nostro pagamento verrà dal ferro e dalla conquista. Proponiamo quindi, ragazzi, la guerra totale contro i breuci. Vediamo cosa diranno i nostri alleati. Hanno accettato assolutamente l'offerta. Ragazzi, vedete un pochino le manovre che stiamo attuando io e Ricky? Togliamo un nemico e ce ne creiamo un altro. In questo modo non abbiamo troppi fronti aperti. Ma dobbiamo stare sempre attenti a questo popolo, ragazzi. Non me ne sono certamente dimenticato. Adesso che siamo in guerra totale e avete anche notato, sempre che abbiamo bypassato tutte le alleanze, possiamo attaccare di prima. Niente più chiacchiere. È il momento di scendere in campo. Attenzione, perché ci vedono parecchio sotto, Ricky. Forse è caso di tenere sotto assedio i nostri nemici, in modo tale che potremo intervenire poi nel momento in cui usciranno per attaccarci di nuovo. È il momento di tenere sotto assedio il nostro appunto nemico, in modo tale che verrà logorato, potrà durare solamente tre turni, e nel momento in cui uscirà, prenderà ceffoni in faccia dalle nostre grandi baliste, nella nostra cavalleria. Bene, ragazzi, quindi circondiamo il nemico stesso, che intanto, logicamente, incomincerà a perire. Questa è, diciamo, la nostra prima fase. Seconda fase, dato che siamo in guerra, attenzione sempre agli RDA che stanno marciando verso il popolo dei Boi, io, Ricky, toglierei il transito militare. Sì, anche è un'ottima mossa, sicuramente, così dovranno... Dovranno arginare, soprattutto passare molto più ampi, prima di poter attaccare i nostri alleati. Vediamo, ragazzi, che cosa appunto verrà. Attenzione, perfetto, transito militare, cancella trattato. Vuoi terminare il patto di transito militare con questa fazione? Certamente, ragazzi, ci odieranno ancora di più. Siamo a meno 138, vediamo un po'. Hai messo fine a un trattato con questa fazione. Perfetto, da questo momento gli RDA non hanno più il diritto, infatti siamo a meno 163, di passare i nostri territori. Attenzione, ragazzi, la guerra davvero è sul filo del rasoio. Allora, dobbiamo eliminare subito Deuonia, questa volta ce la dobbiamo fare, eliminare questo agente dei Breuci. Proviamo, ragazzi, col veleno, esito di assassinare, 18% effettivo, nemico ferito 63, dobbiamo farcela. Forza Nike, forza Nike, se è tutti noi, proviamo ad attaccare la spia. Assassino non riuscito, assolutamente mai, cioè, proprio non ce la fa, la nostra Nike non ce la fa. Va bene, ragazzi, dunque, mentre Nike sta leccando le ferite, le sue ferite, giusto per fare un po' di slang di Baltimora, continuiamo con tutti i nostri piani per la conquista mondiale. Innanzitutto volevo reclutare, come mi avete consigliato, dicevo prima, una flotta, la nostra prima grande flotta di Baltimora. Anzi, possiamo creare addirittura, Ricky, tre navi. E le creerei proprio dal porto di Genova, anche perché è molto, molto avanzato. Benissimo, ragazzi, vediamo subito cosa possiamo fare. Ragazzi, divideremo un pochino le forze, su consiglio di Ricky. Vediamo subito che abbiamo due possibilità. Abbiamo le sere d'assalto, opliti spartani, vene proprie navi d'assalto, molto potenti, e navi con a bordo le tre remi con scorpioni, quindi navi, ragazzi, che possono tirare dardi davvero molto grossi contro le altre navi. Io direi che recluteremo due, attenzione, eccoci qua, un paio di ammiragli da questa parte, benissimo, attenzione. Direi di fare una triera, Ricky, qui con scorpione, oltre alla flotta normale, poi un'altra flotta grossa, più a sud, verso Brindisi. Ecco, io le avrei fatte anche tutte e due a Brindisi, dico la verità. Due a Brindisi, quindi solamente una nord e due a Brindisi, sì, sicuro? Sì, perché con il nostro fronte più grande di guerra, il prossimo è sicuramente verso il sud. Hai ragione, infatti potrebbe tornarci assolutamente utile questa mossa. Quindi, ragazzi, mettiamo a reclutare un'altra, eccoci qua, perfetto, un'altra flotta, anzi, due flotte, come diceva Ricky, a costo zero per giunta, nel porto di Brindisi. Bene, ragazzi, sono davvero molto contento anche di questa nuovissima azione. Vedete che abbiamo ormai, attenzione, altre famiglie, Kneto, no, ok, crea flotta, perfetto. E questa volta faremo invece un'altra flotta, perfetto, triere con scorpione. Recluta. Benissimo, ragazzi, a questo punto abbiamo anche le nostre armate, possiamo notare che abbiamo fullato tutto quanto. Incominciamo, ragazzi, ad avvicinare queste due nuove flotte, appena sarà possibile, verso Rimini e sapete bene il motivo. Ok, perfetto, e le mandiamo quindi verso nord. Ricordiamoci anche che possiamo potenziarle, credo, esattamente, potenziarle con scafi di livello 2. Ricchi, io direi di spendere questi soldi perché vorrei delle flotte davvero molto potenti e quindi subito procedo anche al potenziamento delle stesse. Non costa esageratamente, ragazzi, abbiamo scafi di livello 2 e faremo la stessa cosa, speriamo di poterlo fare, anche agli scafi a nord. In realtà no, perché Brindisi è più potente dal punto di vista dei bacini di carenaggio. Ragazzi, a questo punto diamo una bella scorsa a tutti i prossimi reclutamenti e poi andiamo avanti. Per procedere al meglio dobbiamo reclutare nuove leve, attenzione, e andremo sui tiratori per creare davvero eserciti misti, tiratori e anche cavalieri. Vediamo un po' quanto è il limite, perfetto. Ricchi consigliava, ragazzi, anche di muovere tutte le truppe che abbiamo per ora, anche queste truppe, appunto, ausiliaria di Milano. Le mandiamo più a sud, benissimo, e appunto le switchiamo. Poi torniamo a nord, eccoci qua, perfetto. Il nostro Teofilo, appena adottato, è diventato un generale che di fatto sta traghettando i suoi uomini. E anche da Milano stesso continuiamo a reclutare Ricchi. Metteremo in coda, anche se chiaramente verranno appunto reclutati nel prossimo turno, altri opliti. Dobbiamo davvero fare un reclutamento di massa per riuscire a vincere le nostre guerre. Non ci rimane adesso che dare una scorsa totale in giro, attenzione. Abbiamo fatto una bella revisione ai Ricchi, ragazzi, e abbiamo trovato subito un problema. Ovvero a nord è il momento appunto di produrre più cibo ancora. Così, ragazzi, andremo chiaramente sempre in pari. Vediamo quindi di mettere la Locanda a reclutamento a Noreia, che si trova da tutt'altra parte. E Coria, vediamo subito di centrarla, benissimo, Coiria che dir si voglia. Possiamo mettere il Tempio di Zeus, che di fatto allo stesso momento tamponerà i deficit della costruzione precedente. Abbiamo ancora 1840, benissimo. A questo punto possiamo anche mettere a reclutamento a Octodorus, quindi in questa bellissima piccola cittadina, che è sempre minacciata da questi arverni al confine. Possiamo mettere subito a reclutamento una fattoria. Perfetto. Abbiamo fatto davvero tutto, abbiamo mosso tutti quanti, ed è il momento di procedere. Vediamo subito gli agenti, infatti, stanno continuando a lavorare tranquillamente, ma di tranquillo c'è ben poco, perché al passaggio turno potrebbe esserci 10 a 1. Una grandissima sortita, e vi ricordo anche che adesso gli RDA non hanno più il permesso di passare nelle nostre floride terre. Attenzione, ragazzi, è il momento di andare avanti. Passaggio turno. È il momento, ragazzi, di dimostrare veramente di che pasta siamo fatti. Come previsto, i breuci ci attaccano fuori dalla città di Segestica. È il momento che dalle ceneri dei Romani, vi ricorderete che è stata anche una città romana, passi sotto Sparta, questa bellissima città, che per ora è poco più di un piccolo borgo. Tutti quanti sul campo, ragazzi. Scudo in mano. Siamo pronti, ragazzi, ad affrontare i breuci sul campo di battaglia. Siamo schierati a diamante, come ben sapete. Prime file picchieri, tutti quanti con l'ordine di falange di picchieri, appunto. Mentre invece qui abbiamo, chiaramente, le cave di Zolfo, i triboli e anche la barricata, che dovranno ostacolare, appunto, l'avanzata dei barbari invasori. Questi fierissimi lancieri perieci sono davanti per un motivo preciso. Incendiare, appunto, le cave. Non perdiamoci in chiacchiere e avviamo questa grande battaglia, che sancirà probabilmente la nostra vittoria, speriamo, o la sconfitta eterna. Sopra lo scudo o con lo scudo, un motto spartano pro nell'anima. La cavalleria ai lati, chiedo solamente, sangue per i barbari. E vediamo, appunto, di ottenerlo. Vediamo subito che i breuci, prima volta che li vediamo, ci attaccano sempre con fare barbaro e arrogante. Questi qua, invece, sono, attenzione, membri delle tribù dei Celti e sono la guarnigione. Attenzione, le nostre balliste sono ben otto, ragazzi, quattro gruppi da due. E possiamo vedere subito qual è la loro portata. La loro portata è questa, simbolo, appunto, di morte dal cielo. Vediamo un pochino come avanzano questi, appunto, soggetti e diamo anche una piccola analizzata ai loro uomini che compongono l'esercito primario. Queste sono tutte quante fanteria leggera, mentre questi uomini qua, guerrieri con lancia, sono fanteria pesante, davvero temibile. Chiaramente non sanno e non hanno mai provato, probabilmente, l'ebrezza di essere colpiti dalle nostre grandissime balliste greche. Ragazzi, davvero dobbiamo attendere ancora qualche metro. Intanto vorrei giocarmi bene la cavalleria, perché ci sarà molto utile nella seconda ondata, perché avrete sicuramente notato che questo esercito manca di una componente fondamentale. Un po' come anche il nostro, ovvero i tiratori, hanno semplicemente questi due gruppi di tiratori. E questo è un nostro vantaggio, perché dovranno venire al corpo a corpo. Totalmente diversa è la questione qua dietro. Per questa gente dobbiamo usare bene la cavalleria, perché sono quasi tutti, appunto, giavellottisti o tiratori che dir si voglia. Ragazzi, vediamo subito quanti metri mancano, davvero pochi. I barbari sono quasi stanchi, stanno facendo guerra da diversi giorni contro i boy. E dicono, beh, questi sono gli alleati dei boy, andiamo a prenderli, cominciamo a correre un pochino per i campi. Benissimo, nessun problema, venite pure a correreci davanti, mentre le nostre balliste stanno per innescare i loro proiettili esplosivi davvero efficaci. Si parte col tiro, Ricky, direi di essere precisi al massimo, perfetto, il primo tiro glielo lasciamo fare. E il secondo daremo ordine di puntare, su, vediamo, attenzione, su questa unità. Ragazzi, intanto direi che il primo colpo è andato davvero molto bene. Attention, benissimo, stanno, anzi, sarebbe quasi da mirare sulle unità dietro, ma procediamo per passi. Allora, attenzione, vediamo subito che l'esercito è davvero ampissimo e non hanno certamente timore di affrontarci, questo popolo maledetto barbaro. Puntiamo, Ricky, su questi, che dici? Sì, perfetto, io con una cavalleria, nel secondo momento, cercherei di far fuori gli scorpioni, però. Allora, gli scorpioni sono esattamente qua dietro, ha ragione Ricky, ragazzi, hanno anche delle macchine, davvero che non avevo notato, delle macchine belli, che incominciamo a girare molto larghi. Dobbiamo assolutamente, ha ragione, prendere da dietro il nemico, facendo molta attenzione, chiaramente, anche agli altri nemici che stanno sopraggiungendo. Quindi cominciamo anche con questa manovra evasiva, ma non perdiamoci in chiacchiere, è il momento di attivare subito le nostre cave esplosive. Ah, perfetto, vediamo un po', eccoci qua. Benissimo, ragazzi, chiaramente di corsa per i nostri uomini, incendiate le cave, incendiatele, tutte quante, adesso. Questa volta dovrebbero, appunto, averle appiccate. Perfetto, perdonate, logicamente, la tempistica di intervento, questi uomini praticamente sono già spacciati. Intanto vediamo che, dal lato, la cavalleria cerca delle falle nel sistema, ma non ci sono falle nel sistema. Adesso che, appunto, abbiamo la possibilità di avere una piccola apertura, possiamo attaccare con la cavalleria, perché stanno arrivando anche gli altri tiratori. Dobbiamo però stare davvero molto in guardia, Ricky, molto concentrati. Quando noti qualcosa di strano, logicamente, parla pure liberamente. Ricky, io fermerei un attimo la cavalleria, il motivo è semplice, non è il momento di partire. Ci ammazzerebbero subito con la loro fanteria e con i loro tiratori. Intanto le balliste dobbiamo fermarle, perché rischiano di fare un casino, e dobbiamo tenere i colpi per la seconda ondata. Intanto vediamo subito, la seconda ondata, Ricky, è assolutamente a tiro, hai pienamente ragione, miriamo su questi. E che fuoco sia, fuoco a volontà, di nuovo, ragazzi, l'inferno dal cielo. Uno scontro davvero titanico, guardate i barbari come si schierano contro i nostri avidissimi e prodissimi picchieri. E vediamo subito distruire questa gentaglia, carica della cavalleria contro, mamma mia, ragazzi, guardate, la Simmental sempre cola sopra di noi. Benissimo, perfetto, molto molto bene. Intanto continuiamo a respingere i barbari, mentre è il momento ormai di attaccare da dietro i loro tiratori. I loro maledettissimi tiratori. Ricky, io ho inter... anzi no, aspettiamo Ricky che le nostre balliste finiscano i colpi. È inutile attaccare adesso con la cavalleria ancora. Dobbiamo attendere e giocarcela davvero bene, mentre il conto ci dà ancora molto molto svantaggiati. Ragazzi, ma voi state vendendo benissimo la pelle. Siete davvero molto abile, chiaramente siamo addestrati alla guerra, e ben lo sapete. Ok, perfetto, intanto teniamo chiaramente il campo di battaglia nel migliore dei modi, ed ispiriamo le nostre truppe. Non devono certamente mollare, mentre devono mollare gli avversari, quindi vediamo subito con Platone di usare grida di terrore per tutti i nostri, appunto, uomini. Allora, attenzione, intanto vediamo un po' che i barbari continuano ad avanzare mentre bruciano nelle cave, e i nostri... Eh, attenzione però, le nostre balliste a questo punto mireranno dietro, ancora più dietro. Ed è il momento che tutti aspettavamo, è il momento di intervenire con la cavalleria. Prima cosa che dobbiamo far secca, assolutamente, i loro scorpioni, ragazzi. Una carica per il nostro popolo pro di Baltimora. E i tiratori vanno giù adesso, devono assolutamente andare giù. Ricky, seguiremo davvero da vicino questa cavalleria, perché... Dobbiamo chiaramente far più cariche, perché sta arrivando là dietro, notate anche la fanteria pesante. Anche la fanteria pesante è davvero molto molto pericolosa. Intanto, benissimo, la nostra cavalleria interviene a gamba tesa, con fare davvero arrogantissimo. Le nostre balliste stanno tirando nel punto giusto? Assolutamente sì. Ok, molto bene, perfetto, sulla loro fanteria pesante, nulla di meglio. I nostri, attenzione, la cavalleria interviene sul loro scorpione celtico. Una strage, una strage, ragazzi. Intanto anche la cavalleria da questa parte lancia i dardi, guardate quanti ne vanno giù. E poi attacca i loro tiratori e si infila nelle, appunto, schiera nemica. Attenzione, intanto indietreggiamo, indietreggiamo subito, indietreggiamo subito. Più cariche voglio fare, mentre qui lo scorpione ormai non rimane più nulla, benissimo. A questo punto dedichiamoci al secondo scorpione con questa unità di cavalleria. Sempre di corsa, sempre alla carica. Mi piace davvero tanto la cavalleria barbara, perché prima di attaccare lancia i dardi. A questo punto, benissimo, torniamo indietro. Seconda carica per l'impero spartano, per la nostra gente e per il nostro popolo. Ricky Pro nell'anima. Attenzione, però, perché si sono girati, si sono coperti. Cerchiamo un attimo solo di deviare. Mentre qui come... Attention, attention, ragazzi. Sono passati, sono passati i barbari. Stanno sfondando le nostre linee nemiche. Anzi, le nostre linee amichissime. E dobbiamo intervenire adesso. Allora, subito, subito, Poli per Conte. Intervieni, anzi, scusate, Platone. Intervieni all'interno, mentre di qua possiamo aprirci, Ricky. Davvero stavano seguendo solamente la cavalleria. E questa è una manovra davvero rischiosa per noi. Allora, cerchiamo di prendere un pochino di distanza con questa cavalleria. Mentre la stessa cosa dobbiamo fare con quest'altra. Ok, benissimo. Torniamo. Ecco, chiaramente prendiamoci un pochino di apertura, ragazzi. Se no, è davvero la fine. E possiamo notare subito che i nostri picchieri stanno facendo il loro meglio. Per riuscire a contenere l'ondata Barbara. Ok. In questo caso dovremo attaccare questa cavalleria, che è quella del generale. E vediamo subito che intanto ci stiamo portando a spasso questa fanteria pesante. Allora, attenzione. Benissimo. Intanto la cavalleria carica sui nostri picchieri e nulla di meglio potevamo chiedere. La cavalleria invece di qua dobbiamo muoverla velocemente. Perché è il momento di attaccare. Eccoci, perfetto. I loro tiratori che non lasciano tregua alla nostra fanteria. Perfetto, ragazzi. Dobbiamo assolutamente avanzare. True arms. E quindi, benissimo. È il momento del cat and down che ben conoscete. È il momento di buttare a casa questi barbari e di farli assolutamente ritirare. Benissimo. A questo punto ancora la cavalleria tira i suoi dardi e vediamo bene di muovere anche quest'altra di cavalleria. Contro la cavalleria del generale è il momento davvero di spazzarla via. Anzi, Nori, che io preferisco andare contro i loro tiratori e fare man bassa di essi. Molto bene. Perfetto, ragazzi. Non è ancora finita. Qui dobbiamo davvero tenere il passo e far vedere ai barbari che siamo noi i migliori sul campo. Non certamente loro. Allora, vediamo subito di muovere le nostre truppe da questa parte e di attaccare quelle che attacca le nostre baliste. Davvero, il computer ci dà ancora non avvantaggiati. Siamo davvero in una situazione molto pericolosa. Intanto, vediamo subito che qui i loro tiratori sono praticamente tutti quanti andati, tutti quanti in ritirata. E io vorrei fare anche una carica da dietro, ragazzi. Una carica per il nostro regno spartano, però. Io non caricherrei perché abbiamo messo i tribole. Hai ragione, i tribole abbiamo messo. Ricky dice subito che abbiamo messo i tribo lì e potremmo, infatti, uccidere la nostra cavalleria. Davvero un'ottima osservazione, Ricky. Mi sono fatto prendere un attimino la mano. Allora, cerchiamo subito di aprire un pochino la nostra unità e vedere se riusciamo a combattere questo, appunto, questa gente che ci sta combattendo benissimo. Questi breuci, ragazzi, non mollano assolutamente. Sono un popolo fiero. Intanto questi non li facciamo andare a casa. Benissimo. In modo tale da riuscire, appunto, a saccarneare il più possibile. Cavalieri nobili, intanto, qui abbiamo. E però mi concentrerei, Ricky, su, casomai, entrare dal lato, da questa parte qua. Immortale che dovremmo evitare i nostri triboli. Allora, queste unità non stanno assolutamente combattendo. È il momento che mandino via a calci nel sedere i barbari. Ragazzi, il computer intanto cambia tutta la dinamica. Dice, Strenus, calmo, mi stai mettendo in difficoltà. Qui pensavo perdessi. Eri, dovevi perdere, anzi, secondo le probabilità. Qui le probabilità non funzionano, caro computer, perché qua stiamo parlando di Strenus Life, stiamo parlando di Ricky Magnus e di tutti voi grandi cavalieri nell'anima. Che qui intanto vi scontrate contro i barbari. Davvero un impatto crudele e crudo. Sette nobili, cavalieri nobili per, appunto, Taranuzio. Benissimo. Attenzione. Nome particolare per il nostro amico mentre la ritirata è globale. Ricky, io davvero ti ringrazio per questa enorme battaglia sul campo. Osservazioni davvero tattiche per i Ricky, ragazzi, se non mi avesse letto dei triboli avrei ucciso la mia cavalleria. Ricky Pro, continuiamo la battaglia perché qui non voglio nessuno che scappi. Abbiamo perso però, vedo, un'unità di, appunto, balista. Facciamo subito combattere e assolutamente vendicare tutti i compagni persi ai nostri balistari pro. Benissimo, ragazzi. Intanto devo muovere assolutamente la nostra cavalleria contro le unità di fanteria pesante che sono tutte quante in ritirata. E non dobbiamo farne scappare neanche uno. Questo è quello che i nostri nemici vedono sul campo. Questi sono barbari addestrati da noi, pagati da noi, per fare guerra nel modo migliore. E questa invece è la fine che fanno i breuci su questo bellissimo campo di battaglia. Su questa nebbia e su questa terra che da adesso è nostra. Segestica rivendica la Lambda Spartana. 1200 uomini schierati, 712 perdite per noi, 1600 uomini uccisi. Mentre invece il nemico ha perso 1800 uomini su 2238 schierati, ragazzi. E solamente 705 spartani hanno perso la vita oggi. Chiaramente una grande battaglia. 15 minuti di assoluta potenza sul campo. Benissimo, ragazzi. Intanto vi faccio notare che questa cavalleria barbara mercenaria ha ucciso 232 uomini. Ci ha fatto praticamente vincere la battaglia stessa. Procediamo. Ragazzi, benissimo. È il momento di uccidere tutti i nostri prigionieri. Vediamo subito che sono rimasti pochissimi gruppi completi. Ma ancora possono dare un po' di fastidio. Uccidiamo quindi i prigionieri stessi. Segestica non è ancora nostra. Perché all'interno della città si stanno appunto rifugiando tutti quanti i rimasugli appunto della battaglia che abbiamo appena visto. Vediamo di completare il turno e di procedere. Abbiamo finito il turno assolutamente tranquillamente, ragazzi. Vedete che abbiamo ancora 7000 dracma d'oro nelle nostre casse. E il nostro grande platone appena livellato davanti a questa bellissima battaglia. Vi ringrazio per la visione, ragazzi. Andiamo avanti davvero tra pochissimi giorni con la nostra avventura sul Rome de Total War. Ma logicamente il tempo a nostra disposizione è finito. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate, mi raccomando, un grande mi piace per supportare questa bellissima serie che facciamo assieme al Proderiki. Che intanto saluto. Ciao, Ricky. Ciao, Strenus. Ciao, ragazzi. E noi ci ribecchiamo davvero prestissimo, ragazzi. Mi raccomando, condivisione, mi piace, passate la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornatissimi. E sappiate che sta per uscire, chiaramente, tutte le altre nuove serie che avete votato nel sondaggio che appunto ho fatto su Google+. Io ancora vi saluto. Ciao a tutti da Strenus. E ci becchiamo prestissimo. Ciao, ragazzi. Ciao. In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!